Ma il tuo dolore ti ha amato a te! Ora ti prendi! È un amico? Hai scoperto, il mio amico? Ah, un'altra città! Grazie a tutti, amico! Ciao, sono Stefan e oggi ti parlo della nuova tecnica di studio, Anime d'oro. Con il ritorno della didattica a distanza e la chiusura delle biblioteche, ormai la mia voglia di studio sta andando sempre più in basso e la mia voglia di non fare nulla e guardare anime e serie tv sta andando sempre più in alto. Però mi sono ritrovato con un nuovo metodo di studio, quello che mette assieme lo studio e gli anime e le serie, cioè Anime d'oro. Mi sono imbattuto in questa nuova tecnica grazie a un video su YouTube che linkerò, praticamente metterò tutti i link in descrizione, del video studio 600 ore e 300 ore mi guardo gli anime. Mi sono detto, mmm, molto interessante, avevo già visto parecchi video, molto clickbait dove studio 80 ore al giorno, studio bla bla bla, troppo. Quindi sono detto, ok, vediamo di cosa si parla. Questo nuovo metodo di studio che è una rivisitazione della tecnica pomodoro. Prima di partire però ho visto che soltanto una piccola percentuale di coloro che guardano il video sono iscritti. Quindi vi chiedo gentilmente di iscrivervi, tanto è gratis e potete sempre cambiare idea. E il commento della settimana è di Ale Matt, che dice let's go. Let's go. Da baby. Partiamo con il video. Anime d'oro. Allora, ho visto questo video di Josh Chen dove parla di questo nuovo metodo di studio che è una rivisitazione del metodo pomodoro. Per chi ne fosse interessato ho fatto qui un video apposito dove spiego cos'è la tecnica pomodoro. Però, in poche parole, la tecnica pomodoro consiste in più sessioni di studio da 25 minuti dove si eliminano tutte le distrazioni, si imposta questo timer da 25 minuti e si studia per 25 minuti. In seguito a questa sessione si fa una pausa da 5 minuti. Dopo circa 4 sessioni è consigliabile fare una pausa che sia un po' più lunga, da circa 15-20 minuti. Questa è la tecnica pomodoro. Però, nonostante sia un'ottima tecnica di studio e anzi è una fra le migliori soprattutto per poter iniziare a studiare, in svariate situazioni mi sono trovato che soltanto 25 minuti non fossero abbastanza e che anzi mi interrompessero proprio quello che era il flusso di studio che mi era arrivato. Questo deriva anche dalle osservazioni fatte da Cal Newport nel suo libro Tip Work? Lo sto nominando sempre questo libro. Vale davvero la pena leggerlo? Dove dice che quando iniziamo a fare una task e entriamo davvero nel pieno della concentrazione, entriamo in quello che è un flusso, flow. Ed ecco, per me questo flusso non si riduce soltanto a 25 minuti, bensì a circa 50-60 minuti. Questo è dato anche dal fatto che ormai mi sono abituato a studiare per lunghi periodi e fare delle pause un po' più consistenti. Cos'è la tecnica anime d'oro? Questa tecnica consiste in un periodo di studio che viene allargato a 50 o 60 minuti. Mi sono trovato molto bene con questo metodo soprattutto adesso che siamo in DAD e siccome ho parecchie lezioni arretrate dell'università, a me conviene tanto utilizzare questo metodo, mi guardo la lezione, poi mi guardo la puntata. In seguito a questi 50-60 minuti di studio si fa una pausa di circa 20 minuti, che è il tempo esatto per guardarsi una puntata degli anime o una puntata di qualche serie. Consiglio tantissimo di Office. Ma perché questo metodo è molto meglio rispetto a Pomodoro? Personalmente trovo che il metodo anime d'oro si addice molto di più alla mia personalità e alla situazione in cui ci troviamo adesso. Dato che siamo in didattica a distanza e dato che tutti i posti sono chiusi, quindi non sia quella che l'interazione sociale e addirittura pure le biblioteche hanno chiuso, a meno che non siete molto fortunati, anche l'interazione sociale è diminuita parecchio. Quindi in questo caso mi trovo molto meglio a concentrarmi per molto più tempo sullo studio e poi darmi questo premio. Tra la giustificazione che rende il metodo anime d'oro ancora più efficace è il fatto che una volta finita la sessione di studio si ha qui 20 minuti dove si dà un premio. E lo so, lo so, già c'è il primo difetto che è molto difficile non premere prossima puntata. È soltanto una puntata in più, sono solo 20 minuti, poi li recupero. No, no. Qui si tratta per di più di disciplina ed essere abituati. È ovvio che all'inizio sarà molto difficile non premere prossima puntata, soprattutto quando non si ha l'abitudine o la disciplina. Si, con un bel po' di forza e di volontà si possa superare quella situazione del ok voglio guardarla adesso, ma utilizzare quella motivazione del ok non vedo l'ora di vedermi la puntata. Soprattutto quando si parla di Attack on Titan che uff, cavoli, 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 cavoli. Quanto più hype c'è per la prossima puntata quanto più mi sento motivato a mettermi lì e a studiare. È ovvio che questo metodo di per sé deve essere integrato anche con qualcos'altro. E anche Josh Chen parla di quella che è una shitty draft. C'è praticamente una brutta copia, una bozza, diciamo così. Anche io utilizzo questo metodo soprattutto quando prendo gli appunti dalle lezioni. La mia consiste quindi nell'assistere alla lezione, prendere gli appunti per quanto riguarda le slide, quello che dice il professore e fare quante più domande possibili sull'argomento. Così facendo l'argomento non solo diventa molto più facile da integrare e da capire, ma ho anche la possibilità di non rifarmi gli appunti da capo e coda, ma soltanto a rivisitarmi gli appunti e rivedermi quelle che sono le domande più importanti. L'ultimo metodo per studiare meglio è anche interessarsi genuinamente alla materia, a fare domande, chiedersi il perché. C'è varie materie che sto studiando, c'è scienze delle finanze che è una materia bellissima e infatti parla di quello che è l'intervento del Stato per quanto riguarda tasse, beni pubblici e molto altro. Quindi sì, ci sta, molto bello. Attualmente sto utilizzando questo metodo. Vediamo un po' se è questo. Recentemente ho iniziato a guardarmi meglio come studio. Qui praticamente ho fatto la situazione dello studio. Che anime sto guardando adesso? Allora, con il metodo di studio anime d'oro mi sono visto Hunter Hunter, Attack on Titan, sia anime quarta stagione, oh boy, oh boy. Però sono stato così affamato che mi sono letto tutto quanto il manga. Non dico nulla, non dico veramente nulla. Poi adesso sto guardando Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, della intro che avete visto. E Blackover che è stato un parto. È stato un parto, le prime puntate sono state cringissime dove il protagonista urlava soltanto. Però, però, dalla sessantesima puntata in poi, l'anime diventa molto molto meglio. Infatti, se vi piace vedere l'evoluzione dell'anime, presuppongo anche del manga, quindi l'evoluzione dello stile, della scrittura e soprattutto anche dei personaggi, ve lo consiglio. Poi, dalla novantesima puntata in poi, l'anime diventa molto bello. Ah, basta! Basta. Basta? Basta? Poi meme. Cosa? 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 Cosa?